Una e due minuti, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo da Glasgow in Scozia, dove oggi è arrivata una notizia che potrebbe rimettere in carreggiata la conferenza sul clima che rischiava di arenarsi di fronte alle resistenze di molti paesi. Cina e Stati Uniti hanno annunciato di aver siglato un accordo, i cui dettagli si sapranno domani, ma l'importante è che questo accordo, che è stato divulgato oggi, dice che abbiamo posizioni diverse, ma lavoreremo insieme per salvare il clima. I dettagli si capiranno meglio domani mattina, ma la notizia dell'intesa siglata fra Cina e Stati Uniti sul clima durante i lavori della COP26 ha ridato fiato a una conferenza che stava lentamente naufragando. L'annuncio è stato dato nel tardo pomeriggio dai rispettivi inviati, John Kerry e Xenia e Zenzuà. Tre pagine di accordo fra i due paesi che più inquinano al mondo. La prossima settimana Biden e Xi Jinping si vedranno. Online ovviamente, ma l'appuntamento è importante. Esulta al premier britannico Boris Johnson che nel pomeriggio era arrivato in treno a Glasgow per dare una sferzata ai lavori. Non dobbiamo farci sfuggire, questa occasione aveva detto consapevole della difficoltà di arrivare ad un accordo. Resta fuori l'Unione Europea che a questo punto doveva prendere una posizione, mentre molto severo il giudizio degli ambientalisti. La bozza dell'accordo circolata in mattinate era stata giudicata eccezionalmente debole nonostante l'impegno a tagliare le emissioni di CO2 nel 45% entro il 2030 ed un fondo da 100 miliardi di dollari per aiutare i paesi in via di sviluppo dal 2023. È anche per questo che Greta, Tumery e altri 13 attrivisti si sono rivolti direttamente all'ONU chiedendo che l'emergenza climatica venga trattata alla stessa stregua della pandemia. Il rischio, hanno scritto in una lettera, è decisamente maggiore, bisogna agire subito. E a proposito della pandemia oggi è arrivato l'annuncio del Ministro Speranza che era nell'aria da giorni. Da dicembre la terza dose sarà estesa a tutti gli italiani dai 40 anni. In su ci sono poi novità sul Green Pass e sulle manifestazioni. Stasera il Viminale ha inviato una circolare a tutti i prefetti. I cortei, così come si sono svolti finora, sono pericolosi per la salute e creano anche problemi al lavoro di coloro che appunto hanno attività economiche dove questi cortei passano. Quindi d'ora in poi verranno, per garantire il diritto a manifestare, queste proteste verranno organizzate in forma statica con distanziamento e mascherine ma fuori dai centri storici. Ad annunciarlo in Parlamento è stato lo stesso Ministro della Salute, Roberto Speranza. Dal primo dicembre la platea di chi può ricevere la terza dose di vaccino si allarga ai quarantenni e cinquantenni che hanno completato il ciclo da almeno sei mesi. Si tratta potenzialmente di quasi 15 milioni di persone. Fino ad oggi il booster era stato approvato solo per gli over 60, gli ultrafragili. Il personale sanitario dell'RSA i vaccinati con monodose Johnson & Johnson. Ogni singolo vaccino in più ci consente di avere uno scudo più forte rispetto alle settimane che stanno per arrivare, dice Speranza, che ha proposto l'obbligo della terza dose per i sanitari. Si continua insomma a seguire la linea del rigore con i dati della pandemia ancora in crescita. Oggi i contagi sono stati quasi 7.900, mai così tanti dallo scorso maggio. Ma Speranza ha parlato anche del Green Pass. Per ora è valido 12 mesi per i vaccinati e 6 per i guariti. Ma, ha detto Speranza, sono in corso studi che potrebbero ridurne la validità. Si cerca di capire se con la variante Delta la protezione dal Covid per i guariti sia ancora valida per 180 giorni. Se così non fosse, il certificato verde potrebbe anche durare meno. Intanto in Senato è stata confermata la fiducia chiesta dal Governo sul decreto per estendere l'obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro. Il decreto è stato approvato, ora passerà alla Camera per la conversione in legge. Tra le novità, stoppa i controlli nel settore privato se il dipendente lo consegnerà al proprio datore di lavoro. Poi c'è la manovra. Il Consiglio dei Ministri oggi ha approvato una legge antifrodi per quello che riguarda il bonus edilizio del 110%. Ci saranno più controlli per evitare aumenti ingiustificati dei prezzi. La legge di stabilità resta quella varata dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre scorso. Il Premier Draghi infatti dice no alle richieste delle varie forze politiche della vasta maggioranza e conferma l'impianto, compresa le misure relative ai bonus edilizi. Mario Draghi, come ha dichiarato più volte, vuole evitare che la manovra economica faccia la fine degli aiuti allo sviluppo degli anni 70 che invece di andare al Biafra finirono in rivoli di corruzione. E così il Governo approva un decreto legge che prevede una serie di controlli rafforzati tra i quali spicca l'obbligo del cosiddetto visto di conformità anche per chi decide di usare il super bonus al 110% direttamente nella dichiarazione dei redditi a meno che a presentarla non sia un commercialista o un CAF. Decisioni che si sono rese necessarie per il moltiplicarsi di abusi giustificati con il rincaro dei materiali e in alcuni casi hanno portato anche al raddoppio dei preventivi sistema che avrebbe già determinato una perdita di gettito per le casse dell'erario pari a 800 milioni di euro. La manovra potrebbe essere depositata in Parlamento domani o venerdì. Intanto alla Camera un voto su due ordini del giorno di Fratelli d'Italia al decreto proroghe ha provocato un'importante spaccatura. La maggioranza si è divisa sui due testi che riguardano la giustizia e in particolare le intercettazioni. Gli ordini del giorno sono passati con il voto dell'intero centrodestra assieme a Italia Viva mentre Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e l'EU hanno votato contro. La procura di Pavia ha spiccato un mandato d'arresto internazionale con richiesta di estradizione da Israele per Shmuel Peleg il nonno di Eitan il piccolo di sei anni sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone nell'ordinanza del GIP si leggono parole durissime Peleg ha agito senza pietà sottraendo Eitan all'affetto della zia tutrice un sequestro messo in atto con tecniche di intelligence i legali di Peleg hanno presentato ricorso al Tribunale del Riesame La grave crisi umanitaria al confine tra la Bielorussia, Polonia e Lituania Stati Uniti e Unione Europea hanno concordato di poter dare il via a nuove sanzioni nei confronti della Bielorussia oggi si sono incontrati Biden e Ursula von der Leyen a Washington la drammatica situazione di migliaia di persone accalcate davanti al filo spinato con la speranza di entrare in Europa è stata anche oggi al centro di una girandola di incontri diplomatici il rappresentante europeo Borrell ha chiesto corridoi umanitari per rimpatri di persone che arrivano da Iraq, Siria, Africa subsahariana da Varsavia è arrivato un duro attacco alla Turchia sospettata di facilitare la politica di Minsk grazie ai voli della Compagnia Nazionale l'accusa a Lukashenko di usare i disperati per premere sull'Europa affinché vengano eliminate le sanzioni lo farebbe spalleggiato dalla Russia di Putin che oggi ha inviato due bombardieri a pattogliare i cieli bielorussi proprio nel pieno della crisi è l'1.09, noi ci fermiamo qui domattina alle 7 torna l'informazione, grazie, rivederci, buonanotte grazie grazie grazie